Phil Collins, nato a Cheeswick, un quartiere del sud-ovest di Londra, da Greville Phillip Austin Collins, 1907-1972, agente assicurativo, e Winifred June Strange, 1913-2011, impiegata in un negozio di giocattoli e successivamente segretaria in una scuola d'arte, scoprì la sua vocazione musicale all'età di 5 anni, quando ricevette una batteria giocattolo dai suoi zii per Natale. I suoi genitori gli acquistarono poi batterie vere, sempre più equipaggiate. Senza conoscere la notazione musicale, sviluppò un metodo per accompagnare le melodie che ascoltava alla radio o in televisione. A 12 anni fondò il suo primo gruppo musicale. A 14 anni entrò alla Barbaras Peak Stage School, avviando così una carriera come attore e modello. Fece una comparsa nel film Tutti per uno dei Beatles nel 1964 e partecipò a un provino per il ruolo di protagonista nella trasposizione cinematografica di Romeo e Giulietta, diretta da Franco Zeffirelli nel 1968, ruolo poi affidato a Leonard Whiting. Nel 1970 suonò le percussioni nel brano Art of Dying dell'album triplo All Things Must Pass di George Harrison. La sua prima incisione come batterista avvenne con i Fleming Youth nell'album Arc 2 1969, in cui cantò anche alcuni brani come voce solista. Nonostante l'album, ispirato allo sbarco sulla luna, non ottenesse un grande successo, la rivista Melody Maker lo definì il migliore album pop del mese. L'anno seguente il gruppo si sciolse. Nel 1970 Phil Collins rispose a un annuncio su Melody Maker e ottenne l'opportunità di fare un'audizione per entrare nei Genesis, che avevano già cambiato tre batteristi nel corso di due album. Arrivato in anticipo al provino, a casa dei genitori di Peter Gabriel, Collins si immerse nella piscina del giardino, riuscendo così a ascoltare i brani dell'album Trespass, che doveva suonare e memorizzandoli con facilità. La sua abilità con la batteria e la sua esperienza teatrale lo resero il candidato ideale per la band. Cantò come solista nella canzone For Absent Friends dell'album Nursery Crime del 1971 e In More Fool Me dell'album Selling England by the Pound del 1973, brano che Gabriel aveva rifiutato di cantare. Nel 1974, grazie a uno scambio di favori tra i Genesis e Brian Eno, Collins registrò parti di batteria per l'album Taking Tiger Mountain by Strategy di Eno, che successivamente lo richiamò anche per l'album Another Green World del 1975. Dopo la pubblicazione del doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, Peter Gabriel decise di lasciare i Genesis nell'agosto del 1975 per intraprendere una carriera solista. Dopo oltre 400 audizioni senza successo, Collins si propose per sostituire Gabriel come frontman della band. Esordì come unico cantante nell'album A Trick of the Tale, 1976, mantenendo anche il ruolo di batterista. Per i concerti dal vivo, i Genesis chiamarono inizialmente Bill Bruford e successivamente Chester Thompson. A Trick of the Tale raggiunse la top 40 negli Stati Uniti e il 3 l'opposto nel Regno Unito, ottenendo un'accoglienza positiva da parte del pubblico e della critica. Nella prima fase dei Genesis, il ruolo di Collins nella composizione dei brani era meno rilevante rispetto agli altri membri del gruppo. Tuttavia contribuì significativamente a brani come Lily White Lilith, For Absent Friends, principalmente scritto da Steve Hackett, More Fool Me, principalmente scritto da Mike Rutherford, e la seconda sezione di The Cinema Show, nata da una gem con Rutherford e Tony Banks. Parallelamente ai Genesis, Collins entrò a far parte del progetto Jazz Fusion Brand X. La band registrò il primo album, Unorthodox Behavior, con Collins alla batteria. Tuttavia, a causa del grande successo dei Genesis, Collins partecipò a pochi album e tour dei Brand X. Nello stesso periodo fu anche batterista e cantante nel primo album solista di Steve Hackett, Voyage of the Acolyte. Dopo l'uscita di Hackett e dell'album Wind and Wuthering, i Genesis continuarono come trio e spostarono il loro stile verso una musica più commerciale. Il gruppo ottenne il suo primo grande successo radiofonico con il singolo Follow You, Follow Me dall'album And Then There Were del 1978. Verso la fine degli anni 70, i Genesis si presero una pausa, durante la quale Phil Collins iniziò a lavorare al materiale per il suo primo album solista, Face Value. Questo progetto fu motivato da una profonda crisi personale, seguita alla rottura del suo primo matrimonio. Tuttavia, il lavoro su Face Value fu momentaneamente sospeso a causa delle registrazioni dell'album Duke dei Genesis nel 1980. Face Value fu pubblicato nel febbraio 1981, preceduto dal singolo In the Air Tonight, che beneficiò dell'influenza della collaborazione di Collins l'anno precedente al terzo album di Peter Gabriel. L'album e il singolo ottennero un successo ben al di sopra delle aspettative, raggiungendo le posizioni di vertice nelle classifiche globali, un risultato mai ottenuto dai Genesis. Questo successo colse di sorpresa anche Collins, che nel frattempo si era riunito ai Genesis per la pubblicazione dell'album Abacab nel settembre dello stesso anno. Il secondo album solista di Collins, Hello, I Must Be Going, pubblicato l'anno successivo, non replicò il grande successo del precedente, nonostante la cover di You Can't Hurry Love diventasse il primo singolo di Collins a raggiungere la vetta della classifica nel Regno Unito. Dopo l'uscita dell'album, Collins intraprese il suo primo vero tour da solista, senza i Genesis. Durante questo periodo, Collins collaborò con vari artisti, produsse Something's Going On, il terzo disco solista di Frida degli Abba, e fu il batterista principale nei primi due album solisti di Robert Plant, Pictures at Eleven e The Principle of Moments. Il 7 luglio 1982, Collins suonò la batteria con i Getro Tool per una sola serata al Prince's Trust Gala, tenutosi al teatro Dominion di Londra. Nell'ottobre 1983, i Genesis pubblicarono il loro album omonimo, anticipato dal singolo Mama, che divenne il maggior successo del gruppo nel Regno Unito. Nel 1984, Phil Collins scrisse Against All Lots, Take a Look at Me Now, per la colonna sonora del film Due vite in gioco, Against All Lots. Questo brano divenne il primo singolo di Collins a raggiungere la vetta della classifica negli Stati Uniti, scalando la Billboard Hot 100. Il successo del brano gli valse il suo primo Grammy Award e una nomination agli Oscar 1985 come miglior canzone, anche se il premio andò a I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder. Nello stesso anno, Collins produsse l'album Chinese Wall del cantante Philip Bailey degli Earth, Wind and Fire, che include il duetto tra i due artisti, Easy Lover, che raggiunse il primo posto nel Regno Unito. Inoltre, collaborò all'album Behind the Sun di Eric Clapton. Nel novembre 1984, Collins partecipò al progetto benefico Band Aid, creato da Bob Geldof, suonando la batteria nel singolo Do They Know It's Christmas, destinato a raccogliere fondi per combattere la carestia in Etiopia. Nel gennaio 1985 pubblicò il suo lavoro di maggiore successo commerciale No Jacket Required, che ebbe un grande impatto grazie ai singoli Sussudio e One More Night, entrambi arrivati al primo posto negli Stati Uniti. Questo album consolidò definitivamente il successo di Collins come solista, ottenendo la certificazione di disco di diamante per le vendite. Verso la fine dell'anno, registrò il singolo Separate Lives con Marilyn Martin per il film Il Sole a Mezzanotte, che conquistò nuovamente la vetta delle classifiche negli Stati Uniti. Con questo risultato, Collins divenne l'unico artista a piazzare tre singoli al primo posto durante tutto il 1985. No Jacket Required vinse tre Grammy, incluso il premio per il miglior album dell'anno. Il 13 luglio 1985, Collins fu uno dei protagonisti dell'evento mondiale Live Aid, dove suonò anche con il Led Zeppelin, sostituendo il defunto batterista John Bonham. Riportando l'esibizione da Wembley a Philadelphia in circa tre ore grazie a un volo in Concord, Collins esclamò Che strano! Oggi pomeriggio ero in Inghilterra! Il mondo è strano! Nonostante il crescente successo come solista, Collins dichiarò di non voler lasciare i Genesis. Nel giugno 1986, i Genesis tornarono con l'album Invisible Touch, anticipato dall'omonimo singolo che divenne il primo brano del gruppo a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti. La band ricevette un Grammy e una nomination agli MTV Video Music Awards per il videoclip di Land of Confusion, in cui Collins appariva come una caricatura di pupazzo. Il tour mondiale dell'album culminò con quattro serate consecutive al Wembley Stadium di Londra nel luglio 1987. Nel 1988, Collins recitò come protagonista nel film Buster, che narra una storia d'amore legata alla famosa rapina al treno postale Londra-Glasgow del 1963. Per la colonna sonora, Collins interpretò una nuova versione di A Groovy Kind of Love, che raggiunse il primo posto delle classifiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Cantò anche Two Hearts, con cui vinse un Golden Globe e ottenne una nuova nomination agli Oscar. Sebbene il film ricevette recensioni miste, la performance di Collins e la colonna sonora furono molto apprezzate. Nel novembre 1989, Collins pubblicò il quarto album da solista, AP, But Seriously, che ottenne un grande successo grazie al singolo Another Day in Paradise, che trattava il tema della povertà e raggiunse il primo posto in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Italia, e vinse un Grammy. Il singolo I Wish It Would Rain Down, registrato con Eric Clapton, contribuì al successo dell'album. But Seriously fu seguito da un tour di otto mesi, durante il quale fu registrato l'album dal vivo Serious Hits. Live. Nel 1991, dopo una pausa di cinque anni, i Genesis si riunirono per pubblicare We Can Dance, l'ultimo album con Collins. Il disco include singoli come I Can Dance, Hold On My Heart, Jesus He Knows Me e No Son Of Mine. Il tour che seguì vide i Genesis esibirsi di fronte al pubblico più numeroso mai visto in Regno Unito, a Knebworth. Nel novembre 1993, Phil Collins pubblicò Both Sides, un album composto da undici brani completamente scritti, suonati e prodotti da lui stesso, nello studio casa nel Surrey. Questo lavoro, che Collins considera il suo preferito e il più personale, segnò un primo declino nelle vendite, sebbene il tour successivo, che attraversò tutti e cinque i continenti in tredici mesi, riscontrò un enorme successo. Anche se non lo aveva ancora annunciato pubblicamente, in quel periodo Collins aveva deciso di lasciare i Genesis per concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera solista. Nel 1996 Collins ufficializzò la sua uscita dai Genesis, che registrarono solo un altro album senza di lui, con scarso successo. Lo stesso anno pubblicò Dance into the Light, accolto tiepidamente da pubblico e critica, ma il relativo tour fu comunque un grande successo. Inoltre Collins formò il progetto Jazz The Phil Collins Big Band, con cui registrò l'album dal vivo A Hot Night in Paris. Sempre nel 1996 a Perugia incantò il pubblico di Umbria Jazz con il batterista Marco Pellegrini e la sua band Styx. Nell'ottobre 1998 uscì la prima antologia dedicata esclusivamente a Collins, intitolata Hits. Nel 1999 Collins conobbe un lieve ritorno di popolarità, riuscì a riunirsi brevemente con Gabriel e gli altri membri dei Genesis per registrare una nuova versione di The Carpet Crawlers per la raccolta Turn It On Again, The Hits. Inoltre, nello stesso anno Collins compose la colonna sonora per il film d'animazione Disney Tarzan. Il brano principale, You'll Be In My Heart, ebbe un buon successo e fu registrato in inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo. Questo brano gli valse un Golden Globe e il suo primo e unico Oscar. Il 16 giugno 1999 Collins fu onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Negli anni 2000 Collins ridusse la sua attività musicale a causa di problemi all'udito che complicarono la partecipazione a Turlunghi. Nel novembre 2002 pubblicò il settimo album in studio, Testify, che si rivelò il meno riuscito della sua carriera. A causa dei problemi di salute, il disco fu seguito solo da tre concerti promozionali. Tuttavia, tra il 2004 e il 2005, il First Final Farewell Tour riportò Collins sui palcoscenici internazionali con tre brevi tournée, nonostante il nome scherzoso, per quello che risultò essere un vero e proprio addio alle grandi esibizioni dal vivo. Durante questo periodo, Collins tornò a collaborare con Disney per la colonna sonora del film Coda, Fratello Orso nel 2003, cantando anche nella versione italiana del brano Il mio cammino, e per l'adattamento musicale di Tarzan, che debuttò a Broadway nel 2006. Ciclicamente si fanno stradavoci riguardanti un possibile ritorno di Phil Collins nei Genesis come batterista, con Peter Gabriel di nuovo nel ruolo di cantante. Nonostante diversi membri del gruppo e lo stesso Collins abbiano espresso possibilità in merito in varie interviste, nulla di concreto si realizza fino a novembre 2006, quando i Genesis annunciano ufficialmente una reunion durante una conferenza stampa, anche se Gabriel e Hackett non si sono dichiarati disponibili al momento. Nell'estate del 2007, Collins, Banks e Rutherford si riuniscono per un tour in Europa e in America, che riporta il gruppo ai suoi antichi splendori. Il punto culminante del tour è il concerto gratuito al Circo Massimo di Roma, che attira oltre mezzo milione di spettatori e viene successivamente pubblicato nel DVD When in Rome nel 2008. Il 19 ottobre 2009, Collins annuncia che non può più suonare la batteria a causa della perdita di sensibilità alle mani, conseguente a un'operazione chirurgica a una vertebra. Nel marzo 2010, Collins viene introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Genesis durante una cerimonia a New York City. A otto anni dal suo ultimo lavoro da solista, il 13 settembre 2010 viene pubblicato Going Back, un album di cover che omaggia la musica soul degli anni 60, particolarmente significativa per la sua giovinezza. L'album riceve una critica più favorevole rispetto ai precedenti. Nel marzo 2011, Collins annuncia ufficialmente il suo ritiro dalle scene musicali, motivato da problemi di salute e dal desiderio di dedicarsi maggiormente alla famiglia. Tuttavia, in un'intervista del novembre 2013, Collins rivela di aver considerato un ritorno sulla scena musicale e una possibile reunion dei Genesis per un tour. A tal proposito, afferma, ho iniziato a pensare di fare cose nuove, forse alcuni show anche con i Genesis. Tutto è possibile. Potremmo andare in tour in Australia e in Sud America. Non siamo ancora stati lì. Nel maggio 2015, Phil Collins firma un contratto con la Warner Music Group per la rimasterizzazione dei suoi otto album solisti e la pubblicazione di materiale inedito. Nell'ottobre dello stesso anno annuncia ufficialmente il suo ritorno sulle scene. Durante il 2016 vengono distribuite le nuove versioni dei suoi album, che includono tracce bonus inedite e nuove copertine in cui Collins, rappresentato invecchiato, ripete le pose delle edizioni originali. Il 29 agosto 2016, Collins si esibisce durante la cerimonia inaugurale degli US Open 2016 all'Arthur Ashe Stadium, eseguendo prima In the Air Tonight e successivamente Easy Lover in duetto con Leslie Odom Jr. Il 25 ottobre 2016 pubblica la sua prima autobiografia ufficiale Not Dead Yet, edita in Italia come No, non sono ancora morto, in cui racconta, sinceramente e toccantemente, i problemi personali che lo hanno segnato negli ultimi anni. Nello stesso mese annuncia il suo ritorno ai concerti con un mini-tour europeo che comprende date alla Royal Albert Hall di Londra, alla Lanxess Arena di Colonia e alla Core Hotels Arena di Parigi per l'estate del 2017. Dopo che i biglietti per le cinque date alla Royal Albert Hall sono andati sold out in quindici secondi, Collins annuncia il suo più grande concerto da solista all'Ide Park di Londra per il 30 giugno 2017. Nel 2018 viene annunciata l'uscita di Place Well with Others, una nuova antologia che raccoglie le collaborazioni più significative della carriera di Collins. Il 20 settembre 2021 inizia il tour di reunion dei Genesis, The Last Domino, presso l'utilita Arena di Birmingham. Phil Collins partecipa al tour seduto su una sedia, assistito da due coristi, Daniel Pierce e Patrick Smythe. Il 26 marzo 2022, durante l'ultimo concerto del tour all'O2 Arena di Londra, Collins si presenta sul palco camminando con l'aiuto di un bastone e annuncia il suo ritiro definitivo dalle scene, a causa dei problemi alla schiena che non gli permettono più di suonare. Phil Collins ha recitato nel film Buster 1988, diretto da David Green, che racconta la storia del famoso ladro londinese Buster Edwards e del suo coinvolgimento nell'assalto al treno postale Glasgow-Londra del 1963. Collins ha fatto un cameo nel film di Steven Spielberg Hook, Capitan Uncino, 1991, e nel docudrama su Light's Guerra al Virus, 1993. Inoltre ha interpretato il protagonista in Scherzi maligni, che ha partecipato alla Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1993. Ha anche prestato la sua voce per i film d'animazione Balto, 1995, e Il libro della Giungla 2, 2003. Un progetto discusso ma mai realizzato è stato The Three Bears, che avrebbe visto la partecipazione di Collins, Danny DeVito e Bob Hoskins. Sebbene il film non abbia mai avuto una sceneggiatura scritta, Collins ne ha spesso parlato. La musica di Collins è presente nel film American Psycho, dove il protagonista Patrick Bateman, interpretato da Christian Bale, è un fan ossessivo del suo lavoro, soprattutto con i Genesis, e descrive la sua carriera da solista come più commerciale e quindi più soddisfacente in senso ristretto. Bateman elogia Collins e i Genesis durante una scena con i brani In Too Deep e Su Studio in sottofondo. Nel 1985 Collins è apparso come guest star nell'episodio Phil the Shield, 2 Peabop 12, della serie TV Miami Vice, interpretando un artista della truffa che inganna il detective Stanley Switek, Michael Talbot. Durante lo stesso periodo è apparso anche in alcuni sketch dello show britannico The Two Ronnies. Inoltre ha condotto la cerimonia dei Billboard Music Award per due anni consecutivi, nel 1992 e nel 1993. Nel 2006 Collins ha interpretato se stesso nel videogioco GTA Vice City Stories della Rockstar Games, in una missione in cui deve essere protetto prima e dopo un suo concerto. I suoi brani In The Air Tonight e Easy Lover sono inclusi nel gioco, trasmessi rispettivamente su Radio Emotion 98,3 e Radio Flash FM. In The Air Tonight è stata anche utilizzata nel film Una Notte da Leoni e in uno spot pubblicitario di Cadbury con un gorilla che suona la batteria, il che ha contribuito al ritorno del brano in classifica, raggiungendo il primo posto in Nuova Zelanda nel luglio 2008. Collins è stato rappresentato in un episodio del cartone satirico South Park, mentre tiene il suo Oscar vinto per il brano You'll Be In My Heart nel 2000, che quell'anno sconfisse Blame Canada da South Park, il film più grosso, più lungo e in tutto intero. Nella stessa serie, una collina nei pressi della cittadina è chiamata Collina Phil Collins. Inoltre viene menzionato in un episodio di Psych per la sua somiglianza fisica con il padre del protagonista Sean Spencer, interpretato da Corbin Benson. Phil Collins è stato sposato con Andrea Bertorelli dal 1975 al 1980. I due si erano conosciuti a scuola all'età di 11 anni, prima che Bertorelli si trasferisse in Canada con la sua famiglia all'età di 18 anni. Si sono ritrovati dopo un concerto dei Genesis a Vancouver e si sono sposati in Inghilterra quando avevano entrambi 24 anni. Hanno avuto un figlio, Simon Collins, che è diventato noto come cantante e batterista della band Progressive Rock Sound of Contact. Collins ha anche adottato la figlia di Bertorelli, Joeli, che è poi diventata attrice e produttrice cinematografica. Gran parte del materiale del suo album di debutto solista, Face Value, è stato ispirato dalla fine del loro matrimonio. Durante una puntata di Top of the Pops del 1981, Collins eseguì In the Air Tonight utilizzando un secchio e un pennello sul pianoforte, mentre l'ex moglie era affettivamente legata a un decoratore. Nel 1980 Collins incontrò Jill Tevelman, una donna americana, e i due si sposarono nel 1984, rimanendo insieme fino al 1996. Hanno avuto una figlia, Lily Collins, nata nel 1989. La terza moglie di Collins, Orion Seavey, svizzera, divenne sua moglie nel 1999. La coppia ebbe due figli, Nicholas e Matthew, e visse per anni a Begnins, in Svizzera, in una casa affacciata sul lago Lemano, precedentemente appartenuta all'ex campione automobilistico Jackie Stewart. Dopo il divorzio nel 2008, Collins continuò a vivere in Svizzera, a Fesci, ma mantenne anche una casa a New York City e un'altra a Dersingham, in Inghilterra. Il divorzio fu molto costoso, circa 25 milioni di sterline, diventando la separazione più cara mai avvenuta a una celebrità britannica. Dopo la separazione, Seavey si trasferì a Miami con i due figli, il che portò Collins a un lungo periodo di depressione, durante il quale ammise di aver abusato di alcol e di aver pensato al suicidio. Nel 2015, Collins si trasferì a Miami per essere più vicino alla famiglia, vivendo in una casa che era appartenuta a Jennifer Lopez. Nel gennaio 2016, annunciò il suo ricongiungimento con Seavey e i due si trasferirono insieme in una nuova casa a Miami. Tuttavia, nel 2020, Collins presentò un avviso di sfratto contro Seavey, dopo che lei aveva segretamente sposato un altro uomo. Pochi mesi dopo, Collins vendette la sua casa a Miami per 39 milioni di dollari. Collins ha collezionato per anni cimeli legati alla battaglia di Alamo di San Antonio, Texas, 1836, partecipando a eventi e conferenze sull'argomento. Nel 2014 donò tutta la sua collezione allo Stato del Texas e fu nominato texano onorario dal legislatore statale. Tra i suoi hobby si dedica anche al modellismo ferroviario, condiviso con i colleghi Rod Stewart ed Eric Clapton. Nel 2011, il patrimonio di Phil Collins era stimato oltre 115 milioni di sterline, rendendolo uno dei 20 uomini più ricchi del settore musicale britannico e il secondo batterista più ricco al mondo, dopo Ringo Starr. Nel corso della sua carriera, Phil Collins ha spesso subito critiche dalla stampa specializzata. Le maggiori contestazioni riguardavano l'eccessiva esposizione mediatica degli anni 80 e primi anni 90, in contrasto con una proposta musicale ritenuta sempre meno innovativa. Collins è stato accusato di aver trasformato il suono storico dei Genesis in un pop commerciale da classifica. The Daily Telegraph lo ha definito l'uomo più odiato del rock, mentre FHM lo ha descritto come la pop star che non piace a nessuno. The Guardian ha criticato la sua musica come indigeribile e perfettamente vuota, paragonandola negativamente a quella dei contemporanei Pet Shop Boys e The Human League. Ha inoltre definito l'album No Jacket Required, 1985, come inascoltabile al giorno d'oggi, con critiche particolari al brano Sussudio. Un episodio particolarmente controverso fu il suo volo in Concorde da Londra a Filadelfia durante il Live Aid, che sollevò molte polemiche. Collins fu anche accusato di ipocrisia per aver trattato temi delicati in canzoni come Another Day in Paradise, senza aver preso iniziative significative per i Senzatetto. La sua partecipazione come attore protagonista nel film Buster fu criticata, soprattutto dopo che il principe Carlo e la principessa Diana rifiutarono un invito alla premiere, accusando il film di romanticizzare il crimine. Anche la sua vita privata fu oggetto di discussione, in particolare per la decisione di terminare il matrimonio con Jill Tevelman tramite fax. Un messaggio riguardante l'accesso alla loro figlia Lily fu pubblicato sulla copertura del The Sun nel 1994. Collins fu anche accusato di aver lasciato il Regno Unito per evitare le tasse, in protesta per la vittoria del partito laburista alle elezioni del 1997, sebbene il cantante avesse chiarito che il trasferimento in Svizzera era dovuto alla residenza della sua nuova compagna, Orian Sevey. Nel 1985, Collins visse uno dei momenti più imbarazzanti nella storia degli Oscar. Fu nominato per la miglior canzone con Against All Odds, Take a look at me now, ma non gli fu permesso di eseguirla durante la cerimonia, con la giustificazione che non era uno del cinema. Invece Stevie Wonder, che vinse l'Oscar con I Just Called to Say I Love You, pote esibirsi. Collins, contrariato, assistette alla performance della ballerina Anne Reinking, che eseguì il brano al posto suo. La critica difese aspramente Collins, definendo l'interpretazione della Reinking come assurdamente inetta, e scrivendo che aveva completamente distrutto una bella canzone. Collins, con ironia, avrebbe introdotto il brano nei suoi concerti successivi dicendo, mi dispiace che la signorina Anne Reinking non possa essere qui stasera, credo che mi tocchi cantare il mio stesso brano. The Guardian ha sottolineato come Collins faccia parte di quella schiera di artisti pop che non si prendono troppo sul serio, ma che, loro malgrado, vengono elevati a status divini. D'altro canto, NMI ha espresso disaccordo con l'immagine di cattivo che la stampa ha attribuito a Collins. Rolling Stone ha aggiunto che il musicista è stato «ingiustamente e inspiegabilmente diffamato». Nel 2010, David Shepard della BBC ha scritto «Certamente Collins ha talvolta attirato critiche pesanti, come la questione del concorde per il Live Aid, i testi imbarazzanti di Another Day in Paradise, Buster, eccetera. Ma, nonostante ciò, il catalogo del cantante occasionale dei Genesis è così sostanziale e le sue hit così abbondanti che è mio per liquidarlo semplicemente come un produttore altezzoso di ballate strazianti e romantiche destinate al ceto medio. Negli ultimi anni, Collins ha cercato di riparare il rapporto con la critica, riconoscendo la sua onnipresenza e il fatto di essere apparso fastidioso. Ha ammesso di essere stato disprezzato da molti e ha suggerito che questo sia stato il risultato dell'eccessiva esposizione radiofonica della sua musica. In un'intervista del 2011 ha detto «Il fatto che la gente fosse diventata così stufa di me non è stato davvero colpa mia. Non c'è da stupirsi che la gente abbia cominciato a odiarmi. Mi dispiace di aver ottenuto così tanto successo. Sinceramente non volevo andasse in quel modo». Collins ha anche riconosciuto le critiche dei fan riguardo alla svolta musicale dei Genesis durante il suo periodo con il gruppo, ma ha sempre negato che il suo ritiro dalle scene sia stato influenzato dall'opinione pubblica negativa. Come batterista, Collins è stato citato come un importante punto di riferimento da Taylor Hawkins, Foo Fighters, Mike Portnoy, Dream Theater e Neil Peart, Rush. Diverse testate lo hanno incluso tra i batteristi più influenti al mondo. Collins è anche diventato una figura iconica nella musica urban americana, influenzando artisti come Kanye West, Alicia Keys e Beyoncé. Le sue canzoni sono state campionate da molti artisti hip-hop e R&B e nel 2001 è stato dedicato un intero album tributo intitolato Urban Renewal. Altri colleghi che hanno espresso pubblicamente stima per Phil Collins includono Otzi Osborne, David Crosby, Brian May e Robert Plant. Anche i critici più severi hanno dovuto riconoscere il suo innegabile talento musicale. Nel febbraio 2000, Phil Collins e sua moglie Oriane hanno fondato la Little Dreams Foundation, un'organizzazione no profit dedicata ad aiutare bambini dai 4 ai 16 anni attraverso lezioni di musica, arte e sport. L'iniziativa è nata dopo che Collins ha ricevuto lettere da bambini interessati a entrare nel settore della musica e ha visto la partecipazione di insegnanti di rilievo come Tina Turner e Natalie Cole. La fondazione si impegna a offrire opportunità di crescita e sviluppo a giovani talenti in diversi ambiti creativi e sportivi.